Benvenuti nel mondo degli orologi Victorinos Swiss Army. Victorinos Swiss Army è un marchio svizzero di alta qualità, conosciuto in tutto il mondo per la produzione del famoso coltellino svizzero. Fondata nel 1884 da Karl Helsener, l'azienda ha iniziato producendo coltelli multifunzione per l'esercito svizzero. Nel 1989, dopo che l'azienda si è espansa in tutto il mondo, inizia la produzione di orologi da polso mantenendo la stessa attenzione ai dettagli e alla qualità artigianale dei materiali che ha reso famosi i coltellini Victorinos Swiss Army. Ogni orologio Victorinos Swiss Army porta sul quadrante il logo dell'azienda, ovvero lo stemma della bandiera svizzera, stemma che rappresenta la precisione e l'affidabilità del prodotto certificato Swiss Made. La collezione di orologi Victorinos Swiss Army comprende una vasta gamma di modelli, tutti progettati per resistere a condizioni estreme. Molti dei modelli sono dotati di funzionalità avanzate, come la resistenza all'acqua, la data, il tachimetro e il cronografo, tutte caratteristiche che rendono gli orologi Victorinos ideali per gli sportivi e gli esploratori. I materiali utilizzati per la produzione degli orologi Victorinos Swiss Army sono di alta qualità, tra cui l'acciaio inossidabile, il carbonio e il vetro zaffiro. La scelta dei materiali riflette la filosofia dell'azienda, che punta sulla durata e sulla resistenza degli orologi. Ma non è solo l'estetica a rendere unici gli orologi Victorinos Swiss Army. La tecnologia avanzata utilizzata nella produzione dei movimenti meccanici garantisce una precisione assoluta, mentre l'attenzione ai dettagli nella progettazione dei quadranti e delle lancette assicura una facile leggibilità e una resistenza senza pari.